Eccellenza, dopo due anni e mezzo qui a Potenza, adesso parte per Trieste, due anni e mezzo segnati sicuramente all'emergenza coronavirus, ma non solo da quello. Sicuramente, l'impegno preponderante è stato proprio la lotta al Covid, l'attività finalizzata ad evitare la diffusione del Covid. A questo abbiamo dedicato decine di riunioni del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Ci siamo occupati della lotta al caporalato, sempre in sinergia con la Regione. Abbiamo realizzato un centro di accoglienza che è fondamentale nella lotta ai caporali. Abbiamo anche restituito dignità ai trattenuti del CPR perché abbiamo ottenuto importanti finanziamenti per l'adeguamento della struttura. Abbiamo mediato innumerevoli vertenze di lavoro che in una Regione del Sud, come la Basilicata, sono all'ordine del giorno. Abbiamo fatto un grande lavoro, con grande impegno, sostenuti anche dalla vicinanza, dal consenso e dall'affetto. I Lucani mi hanno fatto sentire a casa e consentitemi tramite voi di ringraziare tutti per la vicinanza e l'affetto che mi è stato dimostrato in questo periodo.